Ciao a tutti, benvenuti sul nostro canale. In questo video menzionerò 10 problemi comuni che i veicoli Chiario dal 2012 al 2000. 17 sono inclini a riscontrare. Numero 1. Alcuni motori da 1.6 litri nei modelli precedenti di questa generazione tendono a bruciare olio. Se il proprietario del veicolo non controlla periodicamente il livello dell'olio, c'è il rischio di avere un guasto. Catastrofico al motore per mancanza di lubrificazione. Numero 2. Alcuni di questi veicoli dotati di motore GD da 1.6 litri tendono a ottenere un risparmio di carburante molto inferiore rispetto a quello pubblicizzato dal produttore. Numero 3. Il motore della ventola del radiatore in alcuni di questi veicoli è soggetto a guasti prematuri e deve essere sostituito. Numero 4. Il motorino di avviamento in alcuni di questi veicoli tende a guastarsi tra 120.000 e 150.000 km e deve essere sostituito. Numero 5. I cavi elettrici rivestiti con isolamento a base di soia tendono a essere masticati dai roditori causando diversi problemi elettrici. Numero 6. I cuscinetti delle ruote di alcuni di questi veicoli tendono a diventare rumorosi prima dei 150.000 km e devono essere sostituiti. Numero 7. Stivali dell'asse tendono a strapparsi nel tempo provocando l'ingresso di sporco e acqua causando danni. Ha l'articolazione omocinetica e una volta che l'articolazione omocinetica è danneggiata. Inizia a emettere rumori di ticchettio quando si accelera e si gira il volante contemporaneamente. Numero 8. La pompa dell'acqua in alcuni motori da 1.6 litri è soggetta a perdite di liquido di raffreddamento prima, che il veicolo raggiunga i 150.000 km e debba essere sostituito. Numero 9. Il compressore dell'aria condizionata in alcuni di questi veicoli è soggetto a guasti prematuri che impediscono al sistema di climatizzazione di emettere aria fredda. Numero 10. Gli ammortizzatori delle sospensioni in alcuni di questi veicoli tendono a subire una rapida usura specialmente, quando vengono guidati frequentemente su strade sconnesse. Quando gli ammortizzatori si danneggiano, provocano rumori sferrati durante la guida su dossi. Questi sono dieci problemi comuni che i veicoli Chiario dal 2012 al 2017 sono inclini. A sperimentare! Vi auguro una buona giornata!